salve a tutti ragazzi sono z willyx eccomi qua con l'ultimo video dell'anno ragazzi programmato questo video per voi e oggi vi mostrerò le due armi laser segrete come anche i restanti 5 veicoli del dlc arena war di gta 5 online che usciranno nei martedì delle prossime settimane prossimo veicolo ragazzi uscirà martedì 8 gennaio però prima di parlare dei veicoli stavolta concentriamoci sulle armi purtroppo ragazzi non so quando verranno rilasciate le armi potrebbero addirittura rilasciarne una domani che il 31 e l'altra è primo dell'anno giusto per darle come regalo di accesso anche se non credo e attualmente purtroppo non sappiamo la loro data di uscita se la empia devastatrice sarà acquistabile da munation costerà circa 450 mila dollari mentre la fabbrica dove costerà circa mezzo milione la empia devastatrice è una specie di mitragliatrice che spara colpi laser non a caso si trova nello slot delle mitragliatrici non avrà bisogno di essere ricaricata però non so quanti colpi potremo sparare su gta online e soprattutto quanto costeranno i colpi di quest'arma se potremo ricaricarla dall'inventario non lo so ragazzi a livello di danno comunque vi posso dire che non è granché ha un altissimo rinculo che comunque si riduce altamente sparando con la visuale in prima persona però non l'ho trovata assolutamente un'arma overpower l'unico vantaggio che quest'arma avrà rispetto all'armi normali è il fatto che non ci sarà la ricarica mentre la fabbrica dove ovviamente si trova nello slot delle armi pesante è una minigun praticamente travestita da arma futuristica e questo glitch dove nel rockstar editor quando stiamo editando la clip dove abbiamo usato la fabbrica dove nella conferma comparando poi il danno è praticamente identico rispetto al danno della minigun onestamente anche questa non sarà un'arma overpower ma una semplice minigun con cui cazzeggiare quindi ragazzi non aspettatevi nulla di così pazzesco come magari succede quando un mod combina qualche cagata in sessione fatemi sapere cosa ne pensate di queste armi tra i commenti e direi che possiamo passare ai veicoli segreti i veicoli che ci rimangono in totale del dlc sono cinque tre acquistabili su super sanadrea super autos mentre due su leggendari motosport i veicoli in questione sono la de classe tullip a 718 mila dollari la macchinina radiocomandata bandito che costerà circa un milione e 600 mila dollari la muscle de classe vamos a 596 mila dollari la sportiva benefactor schlagen a un milione e 300 mila dollari la scheiter deviant a 512 mila dollari ed infine un'auto super veramente spettacolare la principe devest height a circa un milione e 800 mila dollari l'ordine di rilascio dei veicoli parte da destra e arriva fino a sinistra per il sito in questione questo significa che come al solito potrebbero rilasciare per un giorno un veicolo di super san adreas e un altro martedì un veicolo di leggendari motosports e così via il prossimo veicolo che verrà rilasciato quindi sarà la de classe tullip o la sportiva schlagen gt è molto più probabile la muscle giusto per tenere attivo il gioco partiamo dalla de classe tullip una muscle a due posti che ci sta a delle buone prestazioni generali anche se chiaramente sarà la solita auto usa e getta proprio come la vamos e la deviant ve lo dico onestamente perché sinceramente a me non sembrano veicoli che portano qualcosa di così interessante su gt online dopo una settimana come al solito i giocatori sicuramente smetteranno di usare queste muscle quando usciranno la tulip e la deviant saranno le uniche muscle con delle buone prestazioni ed una buona manovrabilità ho trovato la tulip un pochettino più veloce rispetto alla deviant però saranno delle muscle con delle prestazioni simili tra di loro la vamos invece è una muscle veramente incontrollabile vi posso garantire che sarà un totale spreco di dollari quando la rilasceranno è impossibile guidare questo coso poi abbiamo la macchina in radio comandata chissà come dovremo utilizzarla dopo che l'avremo acquistata da Super San Andrea Super Autos perché con il mod menu in single player su pc praticamente premendo triangolo il personaggio ci entra letteralmente dentro e non credo funzionerà così online non avrebbe un gran senso comunque la macchinina è una vera bomba per il cazzeggio provatela se non l'avete ancora fatto la potete usare in arena attraverso alcune modalità quando siete nella sala spettatori oppure se vincete il suo potenziamento nella ruota della fortuna potremo applicargli delle bombe adesive una tipologia delle mine di prossimità identiche a quelle dell'arena potrà saltare e sarà personalizzabile a lo Santos Customs? bella domanda perché comunque nel gameplay è fatto tutto tramite mod e non saprei onestamente darvi una risposta riguardo a ciò personalizzandola potremo anche cambiare il modello della macchinina una figata veramente pazzesca anche se eh costosa eh però sicuramente qualcosa di bello con cui cazzeggiarci sopra e trollare qualcuno in sessione pubblica questa auto invece è la Benefactor Schlagen GT una sportiva o meglio la prossima sportiva di Legendary Motorsports che verrà rilasciata su GTA Online ispirata alla Mercedes AMG GT con una buona manovrabilità ma soprattutto una velocità mostruosa parliamo di 208 km orari leggermente più veloce rispetto alla Ferrari questa sportiva non è niente male come al solito un po' costosa per essere una sportiva però il prezzo secondo me sarà giusto siccome siamo nel 2018 e saremo nel 2019 va bene così insomma alla fine se vi ricordate il prezzo della Paria questa costa un pochettino meno e vi posso garantire che ha un controllo sicuramente migliore rispetto alla Paria staremo a vedere quando verrà rilasciata infine abbiamo la infine abbiamo quello che sarà l'ultimo contenuto di questo ennesimo DLC di GTA Online quello che insomma purtroppo chiuderà il ciclo di questa espansione ovvero la Super Principe The Best Height che costerà un pochettino meno rispetto alla Ferrari anche se comunque sarà una Super questa Super piacerà a molti ma non a tutti ha quell'aspetto che o ti piace o non ti piace personalmente per me è una bomba assurda sarà praticamente la tipica Super Bomba con delle prestazioni fenomenali che si comprano tutti i giocatori con l'account moddato la Principe Height può raggiungere circa 209 km orari come velocità massima una Super veramente niente male il prezzo sarà sempre alto però nel 2019 una Super così ci può stare anche qui il prezzo chissà poi come funzioneranno le microtransazioni e queste cagate in GTA 6 il prezzo comunque chiaro è sempre alto per le prestazioni che ha però ragazzi come ho detto prima insomma nel 2019 una Super che costa meno di 2 milioni di dollari va benissimo se volete sapere il costo intero dei DLC Arena War per acquistare tutti i contenuti dall'inizio del rilascio dei contenuti fino alla fine si stima una cifra di 256 milioni 818 mila e 504 dollari anche se devo dire che 64 milioni riguardano i vestiti poi molti veicoli dell'arena hanno comunque tre tipologie di estetica differenti che non cambiano a livello di prestazione però nonostante questo anche se levi quello levi quest'altro il prezzo per tutto è sempre più alto di 100 milioni per un solo DLC ragazzi un solo DLC una cosa veramente spropositata anche se non compriamo proprio tutto 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 comunque personalmente questo DLC mi è piaciuto veramente parecchio anche quest'anno Rockstar Games ha fatto veramente un ottimo lavoro ragazzi io vi auguro in anticipo buon anno fatemi sapere cosa ne pensate di queste auto e di queste armi tra i commenti inoltre se vi è piaciuto questo video mi raccomando non dimenticatevi di lasciare un bel pollicione in su da Z da Willix è tutto noi ci sentiamo al prossimo video